Allora, vogliamo intervenire a livello internazionale con Carlo Brandinitini per questi nostri fratelli greci che stanno per tornare alla dracma e gettare forse nel panico tutta l'area euro? Che succede? Se la Grecia, te che vivevi i tempi di rompere le regne ai greci che erano infascistone, prima di essere democristiani erano infascistone. Se è bello fatto, è bello fatto. A te, siccome sei sempre con chi vince, quando c'era il duce con chi eri te? Io ero appena nato, ma comunque presi subito la tessera. Ecco, eri un giovane valide. Te invece per chi eri prima? Io sempre del Miss sono stato, poi quando è morto Almirante ho smesso di votare, io sono coerente. Veloce, veloce. Quindi, nonostante quella cosa, invece la situazione in Grecia è molto molto difficile e delicata da creare apprezzioni a tutti i popoli perché un paese come la Grecia... Me li vedono in Papua Asia questi tutti preoccupati per l'euro? No, l'euro non ne frega cazzo a nessuno. E allora che dici tutti i popoli? No, tutti. Cioè i big men, per esempio, continuano a vivere nella giungla sbattendosi nei coglioni. Ma vedi, il problema è che te neanche ne è una. Ma tu tipo... Allora io sì. E allora... E te che hai soldi come te, che fa? Che fa? Eh, che fa? Che fa? Che fa? Le metti in banca in Grecia, no? Ecco, perfetto. Sono lì, sono messi bene. Un sablebacco. Vabbè, perché tu l'apro le banche, quindi no. Le rapine lì, ci si... I banco, ma te sono tutti finiti, eccetera. Senti, invece qui a D'Arezzo va tutto bene. Quindi il sindaco Ginelli presenta la giunta. Ovviamente te sei dei suoi. No, io non so ne che sono. No, te eri dei bracciani. No, io sono dei suoi perché pago le tassi. Ah, ecco. Quindi ci stanno anche per via di me qualche mero. Ah, ecco. No, ci stanno per via di te perché te quando ti schieri con uno lo fai perdere, quindi... Sì, ma comunque mi è piaciuto moltissimo. Cioè, finalmente i comunisti hanno dato il comune a un partito di destra. Sono stati i comunisti, quindi c'è gente che faranno molto strada. Scusa che c'hai ancora, ma... C'ho un fazzoletto. Stai in pezzo fiat. No, no, no. Non attacchi i micro. No, non attacchi. Salutiamo. Salutiamo tutti. E questa ci fa così. Io, scusa, ci fa così. Che vuol dire? No, ha fatto così. Ha fatto così, come su di ciò. Andava il naso. Ti ha detto, ora ti riprendono, vedi? Ridi. Ragazzi, non riesce a ridere. Niente.